Benvenuti nella nostra bottega, sono Andrea Barbera, io e la mia famiglia da più di 50 anni realizziamo scarpe fatte a mano. Con grande orgoglio siamo calcolati tra le migliori eccellenze artigionali italiane. Le nostre sono scarpe vere, sono scarpe vere soprattutto dove non si vede, perché fatte come quelle di una volta, perché fatte una alla volta. Un'esperienza tramandata da padre in figlio coniugando tradizione e innovazione. Vi proponiamo un prodotto direttamente dalle nostre mani, così da potervi offrire un prodotto di alta qualità ad un prezzo imbattibile, con un comfort che vi lascerà di certo a bocca aperta.